L'ordine del giorno reca all'audizione del Procuratore Capo della Repubblica di Vicenza Lino Giorgio Bruno in merito alle recenti vicende delle Banche Popolari Venete. Presso la Commissione è in corso lo svolgimento di svolgimento un approfondimento in merito alle recenti vicende delle Banche Popolari Venete. Con riferimento all'ordine audizione presente il Procuratore Capo della Repubblica Lino Giorgio Bruno accompagnato dai sostituti procuratori Gianni Pipeschi e Luigi Salvatori. Invito quindi il Dottor Bruno a svolgere la sua relazione e seguirà il dibattito in Commissione. Prego. Innanzitutto a lei Presidente e ai componenti della Commissione un daveroso ringraziamento per avere rinviato la presente audizione. La richiesta era giustificata dalla circostanza nota per la quale io ho assunto l'incarico formalmente di Procuratore della Repubblica di Vicenza solo il 2 febbraio, solo il primo di febbraio. Il 2 febbraio era fissata l'audizione avanti a questa Commissione e quindi vi ringrazio della sensibilità e della disponibilità dimostrata. avendo assunto l'incarico solo il primo di febbraio io ho una conoscenza acquisita delle vicende che concernono il default di Banca Popolare di Vicenza, sebbene per quanto dirò anche più avanti singolarmente alcune vicende che hanno riguardato Banca Popolare di Vicenza si intersecano con altre indagini che io ho svolto unitamente ad altri colleghi nella qualità di Procuratore aggiunto della Procura di Bari. Prima di essere insediato quale Procuratore di Vicenza ho svolto quest'altro incarico. Questo, semmai per segnalare come la rete dei rapporti e delle condotte che operano nella sfera dell'illecito abbiano una connotazione nazionale e non localistica, ma di questo eventualmente potremmo parlarne di seguito. Io vorrei limitarmi ad una breve introduzione sullo stato dei procedimenti che riguardano la Banca Popolare di Vicenza. Naturalmente io non ho una conoscenza approfondita delle vicende relative all'altra Banca Veneta che viene ripetutamente evocata anche in alcuni resoconti giornalistici. Il procedimento principale è il procedimento che reca il numero 5628-2015 che è nei confronti dei vertici aziendali ed è in corso di svolgimento avanti al Tribunale di Vicenza in una fase avanzata. Il 15 marzo prossimo, quindi la settimana entrante, è prevista l'udienza per le repliche dei pubblici ministeri, i colleghi Pipeschi e Salvadori che mi hanno accompagnato. È possibile un breve slittamento per esigenze ulteriori, ma in ogni caso si tratta di un procedimento il quale attraverso numerosissime esigenze, consentitemi, attraverso un enorme impegno da parte non solo dei colleghi della Procura e dello stesso Tribunale ed uno sforzo organizzativo non indifferente sia da parte della Procura della Repubblica di Vicenza che da parte del Tribunale di Vicenza, si sta portando a contimento. Con fatti specie, come vedremo, di rilievo tecnico-giuridico non indifferente perché i reati di cui rispondono gli esponenti aziendali Giustini, Marin, Pellegrini, Piazzetta, Zigliotto, Zonin oltre alla Banca Popolare di Vicenza, quale responsabile civile sono i delitti di agiotaggio, articolo 2637 del Codice Civile di ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della BCE di falso in prospetto. Fatti specie, lo ribadisco, di elevato contenuto tecnico-giuridico che posso senz'altro affermare costituiranno una sorta di laboratorio e di precedente giurisprudenziale importante anche per altri procedimenti nella stessa materia. È stata separata dall'originaria richiesta di rinvio a giudizio nel procedimento numero 5628-2015 una posizione di rilievo che è quella del Direttore Generale e successivamente Amministratore Unico di Banca Popolare di Vicenza, Sorato Samuele. La posizione del Sorato per indisponibilità derivante da motivi di salute fu separata in sede di udienza preliminare e comunque il dibattimento nei confronti del Sorato per le stesse fattispecie di reato delle quali rispondono gli altri imputati è fissato alla prima udienza del 21 aprile 2021. Sono attualmente all'esame del giudice due all'esame del GIP più correttamente una all'esame del GIP nel secondo caso nel secondo caso c'è nel secondo caso vi è stato un provvedimento da parte del GIP due richieste di archiviazione formulate in due distinti procedimenti che hanno costituito separazione del procedimento principale in particolare il procedimento numero 38 62 2016 modello 21 nei riguardi di componenti del Consiglio di Amministrazione diversi da quelli per i quali è stata esercitata l'azione penale che quindi rispondono degli stessi reati di 2637-2638 l'articolo 173 bis della legge numero 58 del 1998 e più in generale i colleghi di Peschi e Salvadori hanno svolto una serie di argomentazioni in ordine al delitto di truffa che è stato escluso in questa richiesta di archiviazione e in quella di cui parlerò tra breve sul profilo dell'assenza secondo la ricostruzione degli uffici dell'elemento del profitto da parte della banca i colleghi hanno ritenuto che le fattispecie contestate quindi agiotaggio, ostacolo alle funzioni all'esercizio delle funzioni di vigilanza e false in prospetta esaurispero il disvalore penale delle condotte e assorbissero anche eventuali profili di fraudolenza che tuttavia non consentirebbero secondo quella che è la prospettazione dell'ufficio di procura in ogni caso di configurare il delitto di truffa altra richiesta di archiviazione è stata formulata dai colleghi in un distinto procedimento che è il numero 7068 2016 registro delle notizie di reato in questo caso il GIP e anche in questo caso il reato contestato era quello di agiotaggio il GIP ha concordato con le valutazioni del pubblico ministero in ordine alla non configurabilità nei confronti delle persone sottoposte ad indagini del delitto di agiotaggio ha svolto considerazioni sulla ritenuta configurabilità del delitto di truffa ha restituito gli atti all'ufficio del pubblico ministero perché valuti la configurabilità del reato di truffa identificando eventualmente le persone fisiche alle quali tale condotte dovrebbero fare riferimento che non costituivano oggetto o meglio non costituivano parte del novero delle persone sottoposte ad indagine in questo secondo procedimento vi è un ulteriore procedimento di grande rilievo quest'ultima in fase di indagini preliminari e quindi mi consentirete di come dire considerazione del segreto investigativo di tracciarne per sommi capi i profili e di contenuti e il procedimento per il delitto di bancarotta delitto di bancarotta connesso alla liquidazione provvedimento di liquidazione coatta amministrativa di banca popolare di Vicenza del tribunale di Vicenza del 9 di gennaio del 2019 i colleghi mi correggeranno se sbaglio comunque gennaio 2019 e naturalmente procedimento che è stato avviato appunto in seguito alla declaratoria della liquidazione coatta amministrativa si tratta di un procedimento per bancarotta per condotte per un verso di bancarotta impropria da false comunicazioni sociali sotto altro profilo vi sono tutta una serie di gravi condotte di distrazione e dissipazione del patrimonio aziendale risalenti soprattutto agli anni 2012 2013 effettuate attraverso una serie di operazioni che coinvolgono società ed intermediari finanziari di paesi diversi nell'ambito di questo procedimento vi è secondo i dati che sono stati riferiti anche in varie rogatori internazionali ed ordini di indagine europeo che sono stati tempestivamente disposti dai colleghi vi sarebbe stata soprattutto e tra l'altro una distrazione di somme un trasferimento di ingenti risorse finanziarie della banca che sarebbero state trasferite nei confronti di fondi lussemburghesi gestite da due società di diritto lussemburghese il l'ammontare complessivo di queste somme è rilevante abbiamo in tutto 350 milioni di euro 250 milioni di euro nei confronti in favore di due sicav sostanzialmente di diritto lussemburghese e con la sottoscrizione da parte di banca popolare di Vicenza di quote di fondi appartenenti a queste due società di diritto lussemburghese è stato accertato che attraverso una serie articolate di operazioni finanziarie schermo attraverso queste società lussemburghese il terminale di tutte queste operazioni sono intervenute successivamente società di diritto maltese società che avevano sede a Dublino società che avevano sede nel Regno Unito per darvi l'idea della complessità del disegno i terminali di queste operazioni sarebbero paradossalmente società italiane o meglio gruppi imprenditoriali noti questa era per la verità un dato che era emerso anche nella mia qualità di procuratore aggiunto di Bari perché non casualmente troviamo due gruppi imprenditoriali di Bari che avevano usufluito di finanziamenti da parte di Banca Popolare di Vicenza con operazioni diciamo sul territorio italiano e che poi ritroviamo in questa miriade di triangolazioni attraverso tutta una società estere con la sottoscrizione da parte di società di gestione di fondi di strumenti finanziari emessi da società italiane in alcuni casi è stato accertato che il segmento finale di questa operazione ha riguardato anche l'acquisto da parte di società italiane guardate bene si tratta in gran parte di in molti casi di imprenditori che erano fortemente esposti verso le banche e l'acquisto di azioni proprie di Banca Popolare di Vicenza sono le condotte sono suscettibili di approfondimento io mi sono limitato senza senza fare riferimenti specifici alle società coinvolte ho ritenuto importante fornirvi questa informazione per rappresentarvi la complessità del disegno sotto un certo profilo la rete nazionale Banca Popolare di Vicenza era il terminale di gruppi imprenditoriali più diversi vari alcuni gruppi imprenditoriali anche romani abbastanza noti e per altro verso potete intendere le difficoltà che connotano l'attività di indagine in questo specifico procedimento perché delle varie attività di cooperazione internazionale che la procura di Vicenza ha svolte Regno Unito Irlanda Malta Lussemburgo ci sono tutta una serie di ritardi da parte delle autorità giudiziari estere nel dare esecuzione agli ordini di indagine sebbene come saprete gli ordini di indagine sebbene sia stata rappresentata l'urgenza e sebbene gli ordini di indagine dovrebbero essere eseguiti dalle autorità giudiziari estere secondo determinate scansioni temporali io sono da un mese procuratore della Repubblica di Vicenza ma siccome in precedenza mi sono spesso occupato di attività di cooperazione internazionale ho messo immediatamente in moto tutta una serie di contatti che avevo anche con le autorità giudiziari estere per sollecitare la definizione di queste attività che ripeto già dal luglio dello scorso anno sono state segnalate abbiamo sia rogatorie che ordini di indagine europei e se non vado errato solo una delle autorità giudiziarie contattate ha fornito tutta una serie di indicazioni naturalmente la l'ufficio intende per un verso per quanto possibile perché vi assicuro che non è facile avere a che fare con alcune autorità giudiziarie estere questo apro una parentesi importante indagini di questo tipo senza la cooperazione delle altre autorità giudiziarie non si possono fare e il paradosso nonostante si tratti in gran parte di autorità giudiziarie europee che fanno parte dell'unione europeo con le quali comunque ci sono trattate la massima parte tanto è vero come sapete che l'ordine loie ha un ambito esclusivamente europeo eppure ci sono ritardi disattenzioni omissioni soprattutto da parte di alcuni stati europei nel momento in cui le richieste attengono a reati economici vi sono purtroppo vi è quantomeno scusate l'eufemismo un ritardo ed una disattenzione nella trasmissione nella trasmissione degli esiti io mi fermerei qua perché il mio compito è di rappresentare l'impegno devo dire veramente ammirevole io non conoscevo i due colleghi l'impegno veramente ammirevole dei due colleghi che sono stati impegnati nella fase dibattimentale ma consentitemi al di là del valore dei colleghi che seguono anche il procedimento per bancarotta l'impegno dell'ufficio della procura di vicenza e del tribunale di vicenza perché gestire un procedimento di tal fatta con centinaia di udienze io voglio darvi solo un dato che vi impressionerà sul numero di parti civili che sono costituite nel procedimento principale io ho acquisito questo dato e oggi prima di entrare da voi ho chiesto ai colleghi conferma di questo dato numerico che è impressionante penso che abbia ben pochi precedenti in Italia perché noi andiamo dal primo delle parti civili ammesse Stocco Antonio al numero 7.780 di Veronese Paola cioè abbiamo 7.780 persone che sono state ammesse parti civili limitatamente al delitto di agiotaggio questo per rappresentarvi ulteriormente per un verso ripeto la complessità dell'istruttoria dibattimentale va dato atto che il Tribunale di Vicenza ha compiuto un grande sforzo organizzativo lo ha compiuto anche la Procura di Vicenza il cui programma organizzativo che adesso doverosamente mi accingo ma solo per una scadenza temporale a rivedere il programma organizzativo della Procura di Vicenza non ha potuto che in qualche modo piegarsi alle alle esigenze relative relative a questo procedimento la Procura del Tribunale di Vicenza sono uffici che vengono definiti di medie dimensioni né piccole né grandi quindi potete immaginare quanta l'impegno che ha richiesto la trattazione di questo procedimento però perché io voglio essere poi eventualmente interverrò successivamente il dato relativo alle persone costituite ai parti civili e alle parti civili è ripeto impressionante dal punto di vista numerico non so quanti procedimenti possono avere un numero di parti civili così rilevanti però come dire apre prospettive di risarcimento e di ristoro nei confronti di tutta una serie di posizioni e poi non dimentichiamo eventualmente se lo riterrete possiamo tornarci in seguito tutta una serie di altri possibili fronti sui quali sui quali potrebbero uso il condizionale oltre che nell'ambito consentitemi le difficoltà e di tempi propri del procedimento penale perché il ristoro il risarcimento del danno civilistico spesso ci si illude che possa trovare come dire adeguata soddisfazione attraverso lo strumento penale oggi vi sono tutta una serie di altri strumenti anche di ristoro non parlo solo del fondo indennizzo risparmiatori ma abbiamo una serie di pronunce molto importanti da parte della CF dell'arbitro delle consulenze finanziarie che hanno sono intervenute con decisioni in materia di contratti una delle tipologie di contratti ricorrente l'espressione adoperata non è delle migliori si chiamano operazioni baciate sono sostanzialmente acquisto è un'operazione entrata nel sono le operazioni tecnicamente riservate l'articolo 2358 del codice civile cioè le operazioni nelle quali la banca eroga finanziamenti o concede garanzia ad un terzo affinché il terzo acquisti azioni proprie azioni proprie della banca naturalmente e naturalmente così come l'acquisto di azioni proprie da parte della società 2357 anche queste ulteriori operazioni sulle azioni proprie come sapete sono circondate da una serie di 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 previsioni e di divieti rigorosissimi perché il pericolo è quello dell'annacquamento come è accaduto del capitale del capitale sociale divieti che sono stati ripetutamente violati non vi erano deliberazioni dell'assemblea straordinaria e operazioni di questo tipo le operazioni di cui è l'articolo 2358 del codice civile sono state ritenute per un verso il contratto più correttamente è stato ritenuto nullo da parte del tribunale civile proprio con riferimento a operazioni compiute dalla banca popolare di vicenza tribunale di venenza è la sezione specializzata per le controversie in materia finanziaria societaria più correttamente ma su questi contratti sono intervenuti anche varie pronunce dell'ACF dell'arbitro delle controversie finanziarie anche in questo caso con condanna da parte degli intermediari al risarcimento del danno questo per dire come ci sono una serie di prospettive che hanno avuto un valido riscontro che possono essere ulteriori e diverse rispetto a quelle proprie del procedimento penale con la costituzione di parte civile mi fermo qua io e i colleghi siamo a disposizione per le domande che riterremo io ho due iscritti a parlare grazie procuratore e collega Zanettin prego grazie presidente buongiorno procuratore e grazie di aver accettato il nostro invito io voglio iniziare il mio intervento con una considerazione di carattere generale che da tanto tempo giudico e manifesto e che forse questa è l'occasione per esplicitarla in modo ufficiale io seguo da molto tempo perché del parlamentare vicentino le vicende della popolare di Vicenza delle popolare venete e ricordo tanti episodi e varie fasi in cui soprattutto anche all'interno dell'opinione pubblica venne valutato in modo diverso l'operato delle diverse procure all'interno del nostro paese che erano chiamate ad indagare sui crack bancari ricordo anche perché è giusto dirlo critiche nei confronti della procura di Vicenza perché sembrava che la procura di Vicenza fosse inerte meno solerte meno aggressiva di altre procure che invece operavano sullo stesso settore in altre parti d'Italia il tempo anche in questa vicenda è stato garantuomo perché in realtà io voglio fare il plauso sentito e non formale per come la procura di Vicenza è riuscita a portare avanti in tempi anche molto difficili un processo della complessità della quale lei citava i connotati senza clamori senza provvedimenti che avevano magari il clamore della stampa e poi venivano disattesi dai tribunali del riesame e da quant'altro e credo che oggi noi siamo nelle condizioni di dire che il lavoro svolto dalla procura di Vicenza dall'ufficio giudiziale di Vicenza e credo vada riconosciuto anche il procuratore con il supporto di tutta la società civile vicentina perché tanti hanno dato il loro contributo perché questo processo si svolgesse si svolgesse in modo ordinato addirittura vorrei sottolinearlo perché stamattina io ho incontrato il ministro Cartabia per parlare dei problemi della giustizia e noi abbiamo un maxiprocesso che è stato svolto principalmente in periodo di pandemia e nonostante sia stato svolto in periodo di pandemia sono svolte decine se non centinaia di udienze sono stati ascoltati i testimoni tanti avvocati comprese le parti civili e adesso arriviamo probabilmente in tempi abbastanza rapidi anche ad una sentenza detto questo è stato fatto uno sforzo straordinario da tutta dall'ufficio giudiziario ma anche ripeto dalla società civile vicentina che voleva che fortemente chiedeva se fosse un processo che fossero giudicate i motivi per i quali tanti risparmiatori vicentini hanno visto azzerare i propri risparmi allora la prima domanda che io mi sento di farle prende spunto da questa mia riflessione e anche da quella che è stata anche la mission che è stata data a questa commissione perché nella legge istitutiva di questa commissione c'è anche un punto che sono tantissimi ma c'è un punto che però secondo me merita una riflessione sul quale lei può dare una sua valutazione cioè partendo da un suggerimento che aveva dato nella scorsa legislatura e nella scorsa commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche il dottor Greco procuratore della Repubblica di Milano si giudicava quale fosse la struttura più idonea e la competenza più idonea per affrontare tematiche di reati bancari e finanziari in quella occasione il dottor Greco suggerì la creazione di una super procura nazionale personalmente ho dissentito da quella conclusione e anche in serie di lavori preparatori nel dibattito parlamentare che ha portato al varo di questa legge e di questa commissione io invece avevo suggerito di valutare piuttosto una competenza di sezioni specializzate a livello distrettuale sia di procura sia di tribunale ritenendo che comunque non si dovesse troppo allontanare la competenza per l'accertamento di reati di questa natura dai territori nei quali questi fenomeni si manifestano ritenendo appunto la dimensione distrettuale piuttosto che quella nazionale quella più idonea sul punto direi anche alla luce dell'esperienza fatta a Vicenza che lei mi desse un suo parere a tal proposito altra questione che domanda che io le volevo porre è questa lei ha parlato del processo e ha parlato della possibilità che comunque ci siano molte parti civili e che ci siano dei ristori a favore di queste parti civili volevo chiederle perché proprio perché non sono informato a proposito se non con delle informazioni giornalistiche ma sicuramente imprecise se sono stati disposti dei sequestri sui patrimoni da parte della procura sui patrimoni degli indagati e in che misura questi questi sequestri possono ritenersi almeno parzialmente capienti poi un'altra domanda che è stata rivolta nelle stavose settimane anche al procuratore di procuratore facente funzione di Treviso che indagava sul crack di Veneto Banca il ruolo di Banca Italia ecco voi sicuramente avete svolto delle indagini lei ha parlato anche di queste particolari e complesse operazioni finanziarie estere e volevo capire se voi avete ritenuto che sotto questo profilo il ruolo di vigilanza di Banca Italia sia stato idoneo se poteva essere maggiormente efficace anche l'esperienza della Banca Popolare di Bari di cui lei parlava oppure se invece i comportamenti fraudolenti dei responsabili erano tali da poter escludere totalmente che un'ispezione più accurata potesse accertare i reati così come si erano delineati una curiosità che mi ha che mi ha sollecitato il suo intervento e vorrei capire quali sono le non so se potrete dirlo fino in fondo ma almeno quali possono essere le autorità estere più collaborative e quelle meno collaborative ecco non so ecco questa è un'ultima poi un'ultima ecco quindi non lo so e l'ultima domanda sul ruolo delle baciate è una curiosità che mi è sorta sulla quale chiederò magari anche delle chiarimenti anche ai liquidatori della Banca Popolare che noi udiremo nelle prossime settimane perché almeno la fonte giornalistica io ho capito che più o meno viene contestato un miliardo di azioni baciate nel processo vicentino però mi sorprende che con riferimento a questa voce i liquidatori della Banca Popolare di Vicenza parlino di una somma inferiore decisamente inferiore 739 milioni punto 78 quindi c'è una significativa differenza volevo capire se magari c'è qualche differenza nel calcolo di queste baciate oppure se così una discrasia che c'è ma che non che non rileva grazie presidente grazie a lei collegato Anutti prego io ringrazio molto il procuratore capo Mazzaro e Bruno Bruno e gli altri colleghi che stanno indagando perché vede la mia è una storia lunga sul sistema Vicenza sistema Vicenza non c'è solo il sistema Palamara io lo dico senza polemica perché il 18 marzo 2008 inoltre è una denuncia alla procura della Repubblica di Vicenza ad Usbef la mia associazione ero stato candidato in Veneto venne eletto senatore successivamente e dopo una verifica di azioni gonfiate del ricatto che se tu volevi un mutuo un prestito un fido dovevi diventare azionista inoltre hai questa denuncia e mi ritrovai un signore che oggi c'è addirittura qui trovo una nota tal Marino Smiderle che sul giornale di Vicenza il 9 aprile 2008 in un passo titolato velina al veleno criticava la mia denuncia affermando che io avevo fatto un autogol perché quelle azioni erano arrivate a 60 euro gli azionisti erano 50.000 e quindi diceva ma il difensore dei consumatori che fa un autogol ricordo anche poi andai anche a parlare con il procuratore capo senza venirne a capo di nulla ripeto 2008 successivamente ci sono stati i passati ricordo che ci fu l'archiviazione di quella denuncia senza neppure la notifica all'Ausbef e dovetti andare in corte di Cassazione per stabilire che avevo tutto il diritto quindi perché le ho parlato del sistema Vicenza non lo dico per carità a lei ma semplicemente per la storia perché lei ha affermato che ci sono connotazioni nazionali e non localistiche di questi atti che corruttivi di bancarotta eccetera eccetera quindi io la ringrazio spero che ci sia un minimo di giustizia poi le chiederò se bisogna anche cambiare le leggi per esempio io ho presentato un disegno di legge sul disastro bancario perché non è possibile che i risparmiatori sono truffati e i bancarottieri sono sempre a piede libero questo non è possibile non è possibile come lei ha detto che tutti sapevano che venivano trasferiti dei fondi all'estero si sapeva erano anche praticamente allora io non la voglio fare lunga ne voglio polemizzare però ribadisco come c'è il sistema che ha descritto Palamara c'è stato il sistema Vicenza che ha consentito di truffare 117.000 soci alcuni di serie A che magari sono stati anche risarciti e la maggior parte di serie B quindi l'altra domanda e poi chiudo queste operazioni estero vestite queste SICAV lussemburghesi 350 milioni di euro che non sono proprio diciamo bruscolini all'ossata delle indagini ci può dire qual era lo scopo di queste operazioni cioè chi erano evasione elusione fiscale diluizione dell'esposizione verso altri gruppi imprenditoriali e se c'è stato ostacolo perché io quel reato di ostacolo alla vigilanza per la verità io metterei ostacolo a chi a quella vigilanza che non controlla perché è scritto che le porte girevoli tra chi doveva vigilare e la banca di Zonin oramai è scritta anche ecco comunque io assolutamente la ringrazio nulla contro di lei e neanche contro chi indaga però c'è stato un sistema come io le ho io sono dovuto andare in corte di cassazione io avevo diritto quando si archivia si ha diritto ad avere notizia dell'archiviazione non l'ho avuta e sono dovuto andare in cassazione per averla quindi ecco la ringrazio molto e mi scusi anche perché da 35 anni difendo la povera gente i risparmiatori e i consumatori dopo aver costituito l'anno bene cercherò di dare una risposta così è accesso poi eventualmente chiederò anche l'aiuto dei colleghi mi dispiace fare una premessa perché purtroppo io avevo prenotato il treno per le 16.30 per tornare a Vicenza perché l'audizione era prevista anzitutto per mezzogiorno quindi per consentirmi di prendere il taxi e arrivare in stazione sarò costretto e me ne scuso fin d'ora intorno alle 15.40 di lasciare l'aula eventualmente ci sono i colleghi che potranno eventualmente soddisfare le vostre richieste ci tengo però a dare una risposta complessiva alle varie domande che cortesemente mi sono state poste almeno quelle per le quali posso rispondere poi eventualmente interverranno i colleghi perché lei ma anche il suo collega Zanettin ha come dire fatto riferimento al sistema di vigilanza e controllo chiedendomi se il sistema di vigilanza e controllo della Banca d'Italia sia stato nel caso di specie abbia risposto ai criteri di efficienza e se eventuali condotte avrebbero potuto in qualche modo mettere in evidenza quello che lei ha chiamato il sistema alcuni anni prima nel procedimento penale Banca d'Italia si è costituita parte civile i colleghi ai quali ho rivolto una specifica domanda mi hanno detto che la collaborazione da parte della Banca d'Italia è stata assoluta leggendo i capi di imputazione se volete ne disporrete sicuramente ma potete darvi la richiesta di rinvio a giudizio sono elencate tutta una serie di disposizioni regolamentari della Banca d'Italia che sono state violate nel caso di specie operazioni del tipo del tipo del quale vi ho riferito operazioni baciate usiamo questo termine che a me non piace per un verso operazioni estero su estero che al momento senatore noi qualifichiamo come reati di bancarotta fraudolenta per distrazione senza preoccuparci in questo momento è forse prematuro di come dire accertare quali fossero gli scopi concreti che possono essere i più diversi voi occupate di banche potete acquisire perché sono sentenze alcune sentenze del tribunale di Ancona in un'altra in un'altra fattispecie di default bancario banca marche dove sono coinvolti determinati imprenditori e vi sono sentenze di condanna mi risulta finora confermate dalla corte d'appello nei confronti di imprenditori e del direttore generale di banca marche per il reato di corruzione tra privati quindi quando lei mi chiede di riferire quali possono essere come dire le queste le ho acquisite in procedimenti di Bari e quando lei mi chiede quali possono essere gli scopi finali perché possono esservi degli scopi diretti senatore degli scopi indiretti indotti e complementari io non le rispondo potrei immaginarli i colleghi forse li immaginano meglio di me ma al momento non mi pronuncio il ritornando ritornando al discorso da cui siamo partiti per quanto riguarda la banca d'italia vi sono riferimenti a tutta una serie di norme regolamentari ma soprattutto vi è un continuo riferimento a tutta una serie di operazioni condotte dal top management della banca di nascondimento del contenuto sostanziale delle operazioni sia per quanto riguarda le operazioni cosiddette baciate i finanziamenti barra garanzia ai fini dell'acquisto di azioni proprie sia soprattutto per quanto riguarda le operazioni estero su estero che sono state svolte dai funzionari di grado elevato della banca al di fuori di qualunque controllo anche da parte dello stesso consiglio di amministrazione che poi avrebbe tuttavia ratificato alcune di queste operazioni intendo dire senatore che il coefficiente di nascondimento alle scritture contabili e dai bilanci di esercizio che altro non sono se non il riscontro delle scritture contabili non va sottovalutato sotto questo profilo e non va sottovalutato a mio avviso anche in relazione ai controlli che gli gli organi ispettivi la vigilanza della banca d'Italia ha potuto svolgere fino a determinati anni indubbiamente il 2014 2015 segna un come dire un discrimine importante la vigilanza su banche di questo tipo sulle banche popolari passa dalla banca d'Italia alla BCE e indubbiamente i criteri della della banca centrale europea anche le disposizioni di vigilanza ma anche la disciplina di dettaglio se leggete io ho avuto la pazienza di leggerla alla memoria di Zonin lui attribuisce una delle cause del defaulto della banca poi alla circostanza non alla BCE come istituzione ma tutta attenzione ma tutta una serie di disposizioni regolamentari per esempio guardate bene quella che riguarda il fondo acquisto azioni proprie che era passato da 300 milioni autorizzato dalla banca d'Italia a 80 milioni nel giro di pochi mesi e Zonin che persona sicuramente esperta ha rilevato nella sua memoria come il fondo acquisto azioni proprie fosse una cassa di compensazione attraverso la quale passava tutto questo complesso sistema di vendita acquisto riacquisto delle azioni proprie cioè indubbiamente a partire dal 2014 vi è stata una disciplina di dettaglio regolamentare da parte della BCE un'attività di vigilanza che ha riguardato anche altre banche popolari non è un caso che molte di queste sono state coinvolte negli stessi crack questo è un dato di cui nessuno o meno di voi meglio di voi può rendersi può rendersi conto come dire di individuare una serie di con cause che lo hanno che lo hanno determinato anche badate bene io non mi nascondo dietro un dito ma alcune operazioni di fusione di incorporazione che la Banca d'Italia ha in qualche modo incoraggiato usiamo questo termine prima del passaggio alla vicinanza BCE con intenti che io non posso non mi permetto di valutarli ma in qualche modo comprensibili tra virgolette per rafforzare la struttura patrimoniale delle banche che di lì a breve avrebbero dovuto come dire confrontarsi su un mercato ed una struttura di vigilanza che non era quella della Banca d'Italia la Banca d'Italia questo lo sapeva e tutto questo questo è un dato storico io devo dire non rilevo un altro dato non secondario che vi prego di tenere in considerazione mi pare che una delle ultime ispezioni della Banca d'Italia sia del 2012 quelle condotte estero su estero che per la verità a mio avviso necessitavano probabilmente di maggiore attenzione ecco perché la Bicele ha definite anche in questo caso con un eufemismo operazioni opache e poco trasparenti le consociate estere di banche nazionali con sede a Dublino probabilmente necessitavano di una maggiore attenzione perché spesso le operazioni sfuggivano diciamo al controllo dei consigli di amministrazione il dato temporale è questo le operazioni estero su estero si consumano i colleghi mi correggeranno se sbaglio tra la fine del 2002 e fino all'estate del 2012 fino all'estate del 2013 forse non casualmente se consideriamo che l'ispezione della Banca d'Italia mi pare risalga al 2012 e voglio rispondere al l'avvocato Zanettin il noi abbiamo c'è una tendenza come dire all'accentramento presso le procure distrettuali di tutta una serie di affari l'ultima delle quali riguarda oltre ai tradizionali procedimenti di criminalità organizzata tutta una serie di altri reati è stata ormai convogliata nelle procure distrettuali anche tutti gli ordini di indagine e le erogatorie passive oggi le procure non distrettuali trattano solo della cooperazione giudiziaria in uscita non di quella in entrata c'è questo fenomeno io non so se l'accentramento di indagini di questo tipo su base distrettuale possa conseguire risultati migliori io ritengo che bisognerebbe avere maggiore attenzione da parte il ministero della giustizia e il consiglio superiore della magistratura nel momento in cui procure come quella di Vicenza ma lo stesso discorso può farsi per quella di Treviso può farsi probabilmente per quella di Ancona può farsi per quella di Ferrara parlo di procure che hanno trattato procedimenti di questo tipo si confrontano con indagini di questo tipo nel senso di rafforzare eventualmente anche come dire a tempo sarebbe una novità sia il personale delle procure quello dei tribunali perché il tribunale che poi regge l'urto dello sforzo investigativo della procura ma anche non dimentichiamolo perché è un supporto fondamentale il personale amministrativo e quello della polizia giudiziaria un problema serio sul quale vi prego di riflettere è anche la qualificazione della polizia giudiziaria per indagini di questo tipo se non vado errato perché io ho acquisito alcuni vostri atti di indagine come procuratore aggiunto di Bari in questo caso ha operato probabilmente in sinergia con la guardia di finanza di Vicenza la guardia di finanza di Roma la polizia valutaria di Roma è vero perché c'è un problema badate bene c'è un problema di qualificazione di elevato spessore non solo da parte delle procure della Repubblica ma anche da parte della polizia giudiziaria e ripeto è fondamentale incentivare le forme di cooperazione internazionale la cooperazione internazionale deve essere vera noi siamo probabilmente commettiamo molti errori ma vi posso assicurare che nel momento in cui ci pervengono richieste ordini di indagine richieste di rogatoria almeno per quanto mi riguarda a Bari noi li abbiamo sempre definiti nei termini previsti dalle disposizioni di legge senza alcun ritardo assicurando la massima disponibilità abbiamo una struttura anche in quel caso onorevole Zanettin distrettuale io mi sono confrontato spesso vi faccio un esempio con la Gran Bretagna la Gran Bretagna ha scelto una forma accentrata della gestione della cooperazione internazionale cioè accentra tutto a Londra l'home office e badate bene è complicato nonostante la massima disponibilità dell'ufficiale di collegamento è complicato ottenere in tempi parlo in assoluto in tempi ragionevoli risposte quando ripeto in un unico ufficio si convogliano tutte le rogatorie che provengono dagli stati est noi per fortuna abbiamo una struttura articolata basata sui distretti e ritengo che l'autorità giudiziaria italiana dia la massima collaborazione quindi qualificazione della polizia giudiziaria determinate indagini richiedono come dire richiedono conoscenze e professionalità elevate necessità di incentivare la cooperazione giudiziaria internazionale penso di aver risposto un'ultima su questo poi purtroppo io dovrei lasciarvi possono rispondere i colleghi mi risulta che la procura di Vicenza abbia chiesto ed ottenuto il sequestro conservativo di beni appartenenti ad alcuni degli imputati nel procedimento in corso di svolgimento potranno essere più precisi i colleghi vi segnalo anche perché io insisto pur essendo un procuratore della Repubblica non sono un pan penalista vi sono recenti sentenze di tribunali civili che sul ricorso dell'attuale Banca Popolare di Vicenza dichiarano l'inefficacia di atti di disposizione che alcuni imputati avevano compiuto in favore della moglie e del figlio questo per dire come occorre che il sistema nel suo complesso si muova e ribadisco attraverso rivoli e condotte che non si accentrino solo ed esclusivamente sul processo penale io rimarrei molto volentieri con voi ma sono le 15 e 40 e devo prendere il taxi io Presidente mi dispiace molto ma corro il rischio di rimanere a Roma intanto ci scusiamo per ovviamente aver dovuto posporre la seduta ma purtroppo sono state esigenze di aula che capirà l'ultimo minuto intanto sospendiamo un attimo la seduta per due minuti così salutiamo il procuratore e poi poi lo seguiamo un attimo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.